Salve amici del Centrometro Italiano, tempo via via più asciutto verso il fine della settimana. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per giovedì 6 maggio. Molte nuvole in transito al mattino da nord a sud ma con tempo asciutto, salvo locali piogge su Friuli e Sicilia. Al pomeriggio tempo instabile sulle Alpi con fenomeni sparsi, localmente anche sulle pianure del Friuli. Variabilità asciutta altrove. In serata e nottata ancora addensamenti in transito con piogge sparse sulle regioni del nord e su Calabria e Sicilia. Temperature minime, stabili o in lieve calo, massime in aumento al centro-sud e in flessione al nord. Per ulteriori dettagli potete seguire le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano. Grazie a tutti.